Il Teramo ha scelto Vincenzo Vivarini, sarà il tecnico di aria a guidare i biancorossi nella prossima stagione, accordo raggiunto nel primo pomeriggio di ieri, quando Vivarini intorno alle 18 sale nella sede della Teramo Calcio per allimare gli ultimi dettagli. Contratto annuale per il 47enne allenatore che in Lega Pro rappresenta una garanzia praticamente assoluta, dal settore giovanile del Giulianova e poi in quello del Pescara, prima come osservatore, poi in coppia con Luigi De Rosa, dopo la gestione a Mazzalorso, esperienza sfortunata con una squadra costruita male, con una miriade di problemi che lasciò mestamente il campionato di Serie B per tornare in C. Vivarini comincia l'avventura tra virgolette improprio a Canistro, subentra stagione in corso con la formazione eroveitana che lotta per non retrocedere, Vivarini ce la fa, al play-out c'entra la permanenza in Interregionale. L'angolana dell'allora DS Daniele Dellicarri lo aveva già segnato sulla propria agenda, lo chiama in erazzurro, settimo posto nel campionato 2008-2009. A questo punto è maturo il salto di categoria, ma tra i professionisti Vivarini ci arriva vincendo il campionato di Serie D, coi colori nero-verdi del Chieti. L'annata 2009-2010 culmina con la promozione di Montecchio, la festa di un'intera città che, ripartita dalla promozione esattamente come il Teramo, in quel caldo pomeriggio marchigiano, aveva ritrovato il calcio che conta. L'anno successivo, altra annata di livello, ma con l'amarezza dei play-off mancati proprio all'ultima curva. In quell'ultima giornata di campionato col derby all'Aquila, che termina senza reti, l'Aquila va agli spareggi, il Chieti per colpa di biscottoni su altri campi, no. Vivarini a mani in cuore saluta e parte alla volta di Aprilia, porta con sé Stefano Amadio che aveva avuto a Chieti e Marco Croce prelevato dal Giulianova. I Pontini hanno l'ambizione di fare un campionato di vertice, al primo colpo quinto posto per i laziali. E ai play-off che avversario si trova di fronte Vivarini? Il Chieti. Passato nel frattempo nelle mani di Silvio Paolucci. I neroverdi si vendicano immediatamente del loro ex allenatore. La finale vedrà i teatini perdere contro la Paganese, ma Vivarini nonostante l'amarezza rimane ad Aprilia. La campagna rafforzamento di livello, si punta alle zone nobilissime della classifica. I Pontini partono alla grande, ma tra novembre e dicembre dalla gara con la Salernitana a quella, manco a dirlo col Chieti, in sé uscite raccolgono la miseria di due punti. A febbraio l'esonero dopo la sconfitta esterna 3-1 al nuovo Romagnoli di Campobasso. Ora arriva la chiamata del Teramo, battuta la concorrenza di Christian Bucchi.